Mi raccomando ragazzi puntate le sveglie perché è martedì alle 13.30 e giovedì alle 13.30 usciranno altri due episodi della carriera allenatore Andremo avanti con il calcio mercato E niente ragazzi mi raccomando mettete le sveglie, taggatemi su instagram e vi riposterò nelle mie storie Vi lascio il video, mi raccomando lasciate un bel mi piace, buona visione Salve a tutti ragazzi sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con la carriera dell'attore con il nostro West Ham Signori mercoledì è uscito un episodio molto importante nel quale abbiamo finito la stagione Oggi infatti inizieremo la terza stagione con il nostro West Ham Se vi siete persi quell'episodio mi raccomando andatelo a recuperare per capire un po' come si è conclusa la stagione Per il momento non vi faccio spoiler ma fra qualche minuto chiaramente andremo a capire un attimo come muoverci Come al solito in descrizione trovate tutti i link utili ragazzi Link per scaricare OneFootball, applicazione calcistica chiaramente per me di riferimento Trovate anche il link per venirmi a seguire su Twitch e su Instagram Mi raccomando ragazzi guardate la descrizione perché comunque c'è sempre qualcosa di importante Inoltre raga ieri è uscito un episodio delle vostre carriere allenatore Mi raccomando andatelo a recuperare Vi ringrazio per tutti i commenti e tutti i consigli che mi avete lasciato nello scorso video ragazzi Sicuramente la prima cosa di cui voglio parlare è appunto come gestirò questa stagione Sarà una terza stagione un pochettino più rapida Simulerò un pochettino più di partite per cercare di concludere al meglio questa carriera allenatore Magari arrivare ai 100 punti in Premier Magari vincere tutte le coppe perché no Così da poter iniziare una nuova carriera La prossima carriera ragazzi sarà un pochettino più complicata Partirò da una serie B Lo deciderete voi comunque nei sondaggi Così da avere un pochettino più di sfida Ecco se non c'è la sfida creiamocela noi no? Infatti l'altra cosa di cui vi volevo parlare è che sì ragazzi lo sappiamo tutti Non lo scoprite voi Non lo scopro io FIFA quest'anno è un po' troppo facile Già da un po' di anni che è molto facile Spero che nei prossimi anni invece diventi più complicato Perché queste squadre qui hanno già comunque molto budget Siamo riusciti a costruirla con dei giocatori che crescono E comunque già formati alcuni chiaramente Tranne Lukman, Rice non erano ancora pronti Però comunque le altre squadre Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham Ci hanno dato poco filo da torcere Per questo motivo la prossima carriera sarà un pochettino più complicata Inoltre come vi avevo detto pensavo di passare a questo modulo O meglio a questo cambio di posizione Avers passerà tra quartista e sulla destra vorrei prendere un altro esterno destro Che vi possa aiutare magari a segnare un pochettino di più Se ci fosse un'occasione a centrocampo Perché no per alzare un pochettino giusto il livello Sicuramente la difesa e la porta va cambiata Ho letto tutti i vostri consigli Andiamo a vedere quanto budget Oh raga No vabbè No vabbè ragazzi Alla terza stagione 240 milioni di euro Oh wow Qui i piani cambiano Qui i piani cambiano Perché con questo budget Ci possono stare un po' di colpi veramente molto interessanti Parliamo un attimo di alcuni nomi Che mi avete consigliato Visto che comunque devo cambiarne parecchi di difensori centrali Mi avete consigliato un po' i soliti Uno su tutti però Uno su tutti però Ha conquistato il mio cuore Chiaramente Semplicemente perché È il difensore centrale dell'Inter Ovvero Milan Skriniar ragazzi Me lo avete consigliato in tantissimi Onestamente non avevo assolutamente pensato a Skriniar E effettivamente Può essere sicuramente Un calzatore interessante da affiancare a Koulibaly Che per il momento non voglio vendere Prima vendo gli altri E poi se arriva un'occasione vendo anche Koulibaly Per il resto ci sarebbe anche l'Engley Un po' classico Ma soprattutto l'Engley non è cresciuto molto Potrebbe essere interessante inserirlo magari come primo sostituto Perché no? Per quanto riguarda la porta Invece in tanti mi avete consigliato Kepa Eccolo qua 25 anni 86 Io ero puntato onestamente a provare Ederson Penso di averlo provato poche volte questo portiere Ed è un portiere che ogni volta che lo incontro Mi para tutto quanto praticamente E quindi Mi piace Mi piace Ederson Per il momento Ragazzi Questi sono i nomi Andremo avanti Poi a parlare anche dell'esterno destro Eccetera eccetera Con calma Prima bisogna fare un po' di ordine Come potete vedere ragazzi Ci hanno aggiunto 133 milioni Quindi il nostro budget era inferiore chiaramente ai 240 milioni Cioè un'aggiunta di 130 milioni di budget E tanta roba Abbiamo vinto la Champions Per carità Però forse un po' troppo Abbiamo un'offerta di trasferimento per Wilshire Ok Questa potrebbe essere l'occasione di cui vi parlavo Cercare di migliorare comunque il centro campo Vendendo un po' questi giocatori Possiamo richiedere comunque 16 milioni Ok 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 Andiamo a trattare Cerchiamo di allastare un pochettino questa offerta E magari miglioriamo anche il centro campo Vediamo un po' Cerchiamo magari proprio di andare sui 16 milioni e 5 Potrebbe essere sicuramente il prezzo giusto Il Milan accetta Molto bene Io vi dico la verità ragazzi Vorrei provare una cosa Per questa partita contro la Real Madrid Vorrei provare appunto con Avers titolare Perché l'ho provata L'ho provato solamente in un'occasione Avers titolare trequartista E quindi devo capire un attimo come mi trovo Nel frattempo ci arriva un'altra offerta Per Wilshere Deleghiamo Facciamo non vendere a meno di 17 mila E facciamo offerta di partenza così Sì va bene Intanto l'abbiamo già venuto al Milan No il cazzo La vado a simulare Perché tanto Avers non c'è Non ha senso Andarla a giocare Perfetto ragazzi Quindi faccio i miei cambiamenti Ok Andiamo a simulare questa partita contro la Real Madrid Mi sarebbe piaciuto provare Avers Dovesse rientrare dalla nazionale Andremo poi a provarlo Vediamo un po' come finisce questa partita Vado a saltare Signori vinciamo 4 a 0 contro un Real Madrid Abbastanza pieno di seconde linee Dopilità di Emanuelito Lanzini Gola anche di Zielinski E Giuseppe Martínez Molto bene ragazzi Prima offerta Per Il nostro Fabian Balbuena Di 19 milioni e 500 Iniziano ad essere Bei soldi raga Iniziano ad essere Bei soldoni Potremmo chiedere anche 23 milioni e 900 Fate conto che Balbuena è in scadenza di contratto Ancora un anno di contratto Ovviamente io non glielo voglio rinnovare Quindi vado a cederlo Sperando di arrivare Anche sui 24-25 milioni Perché no Sfruttiamo questa occasione Visto che è l'Atletico Madrid Spariamo subito questa cifra 25 milioni e 500 Vediamo cosa ci dicono E vabbè ragazzi Adesso non esageriamo Mamma mia Questo è esagerato Capisco che ho sparato Un pochettino alto Ma neanche così tanto Altro Il suo valore è 21 milioni A me onestamente sembra esagerato Minca t'avessi detto 35 milioni 25 milioni Ok Offerta per il prestito Per Greenwood La accettiamo Un anno Dal Dal Braga Accettiamo ragazzi Così il nostro Greenwood Può assolutamente crescere Dovessimo prendere Un altro attaccante Ci vuole qualcosa Di più pronto Secondo me Abbiamo venuto Wilshire Al Milan Ci entrano 14 milioni Molto bene Altra Offerta Per Greenwood In prestito Dal Fulham La vado ad accettare Chiaramente Poi deciderà Greenwood Dove andare In prestito Peccato per questa Cessione di Balbuena Perché mi potevano Entrare subito Dei milioni Andiamo a simulare Anche questa parita Contro l'Urawa Vediamo un po' Siamo fuori casa Tecnicamente Quindi secondo me La simulazione Non andrà per niente bene Infatti parezziamo Uno a uno Le cagate di FIFA Questo lo chiamerei Le cagate di FIFA Perché non è possibile Che prima batti 4 a 0 Il Real Madrid E poi perché Sei fuori casa Tecnicamente Fai un po' Fatica Vediamo contro Il Kashiwarei Sol Allora nel frattempo Memphis Depay Va via per 50 milioni Eh però Ok un'altra offerta Rifliato prestito Per Greenwood Non iniziamo Il Manchester City 18 milioni e 700 Vado a trattare nuovamente Chiederò 24 milioni Però ragazzi Cioè Se il gioco mi dice Comunque che posso chiedere 23 milioni e 900 Non vedo perché Dover sempre andare A calare Ecco E A questo punto ragazzi Chiediamo Il minimo Che possiamo chiedere Vediamo un po' Anzi il massimo Che possiamo chiedere Guardiola non si alza Andiamo sui 22 e 8 Vediamo cosa ci dice Il Guardiolone nazionale Non sono d'accordo ragazzi Balbuena non si vende Balbuena non si vende Pazzesco Incredibile A questo punto ragazzi Visto che Guardiola È interessato A Balbuena Perché non fare Uno scambio Perché non provare Uno scambio Voglio Ederson Vuoi Balbuena Ti do Balbuena Chiaramente poi Tu mi abbassi un pochettino Il prezzo Vediamo un po' Di quanto si può abbassare Il prezzo Di Ederson Eccolo qua Non è interessato Non sono interessati a Balbuena Ok Va bene Attaccante o terzino Altro ruolo Ci mettiamo Onana A questo punto Che vale 20 urca Vale poco Onana Vale veramente poco Onana vale pochissimo Raga Veramente ma veramente poco Andiamo 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 così Stiamo molto bassi Diciamo Vediamo quanto si abbassa Il Manchester City Si alza Si alza Magicamente Il Manchester City Si alza Ok Non si muovono Dalla loro Offerta iniziale Io però Per il momento Visto che siamo Inizio calcio Al mercato Non mi alzo Più di tanto Non si sa mai Che si Bagga 65 milioni Più Onana Secondo me Per Ederson Sono tanta roba Sono tanta roba Raga Non si arriva Neanche Ai 90 milioni Ok Andiamo a trattare Il buon Ederson Mamma mia Raga Sarebbe un primo colpo Molto importante Molto ma molto forte Questo portiere Soprattutto andiamo a togliere Un portiere A una nostra Rivale E gli diamo Un pacco bomba Praticamente Io gli metto sporadico No sto scherzando Cruciale chiaramente Tre anni di contratto Per Ederson Speriamo non vogliono Clauso Le cose del genere E speriamo che non Spacchino troppo Per il loro Per il contrattone Di Ederson Che piglia Una valanga dei soldi Per l'amor del cielo 200 mila Tondi tondi E ci salutiamo Vediamo un po' Che ci dicono Mi sembra un'offerta equa Molto bene ragazzi Primo acquisto ufficiale Di questa terza stagione Ederson Salutiamo Con la mano Così aperta Un bel ciaone A un'ana Poverino È durato poco Su questa panchina I portiere effettivamente È durato poco In questa squadra I portiere effettivamente Durano poco Non so se vi ricordate Arriola Che è durato pochissimo Non è neanche sceso in campo Praticamente Ederson E direi E direi Ragazzi Che ci siamo A questo punto Visto che il Manchester City Non si è voluto appioppare Balbuena Speriamo che qualcun altro Se lo voglia appioppare Ok Questa la Stravinceremo ragazzi Guardate un po' Olè 2-0 Vabbè Onesto Con Rice Che si fa pure buttare fuori Mortacci tua Oh ragazzi Semifinali del torneone Offerdo il trasferimento Per Pereira Che non si muove da qua Assolutamente Semifinali del torneone Contro l'Atletico Madrid Che conosciamo bene Infatti L'abbiamo battuto In finale di Champions Allora ragazzi Approfittiamo Del fatto che sono tornati Tutti I Giocatori Dalle nazionali Per provare Avers Appunto Trequartista Quindi ragazzi Visto che ormai mi conoscete Le mie carriere allenatore Sono così Cioè Non sono Semplicemente Vado avanti Faccio Compro Gioco Eccetera Io ho bisogno Di confrontarmi con voi Quindi Ho bisogno di Capire E farvi capire Se un giocatore Mi piace o meno In quella posizione Proviamo Avers insieme Lo vediamo Poi voi potete darmi I vostri consigli E poi decideremo insieme Chiaramente È giusto Tenervi partecipi Di questa cosa Tenervi partecipi Di come è Avers Trequartista Sulla trequarti Ecco E poi ne parliamo assieme Andiamo in campo dunque Per questo match Esordio Per Ederson Con la maglia degli Hammers Andiamo in campo Signori Sempre sul pezzo E chiaramente Forza West Ham Soler Werner Di prima attenzione Per Neves Attenzione Neves Col destro Neves Ma non l'essi Poi Avers Col destro Dos Santos Grande parata Prima occasione Per Caimano Avers E in quella posizione Può essere Veramente fondamentale Proprio la sua Fisicità Perché è bello tosto Bello Bello possente Può colpire anche Il testa Vediamo adesso Neves Per Timone Werner Parados Santos Troppo bello Troppo bello ragazzi Perché Nello scorso video Un ragazzo Ha scritto Si narra Che Rashford Non abbia Mai visto La palla Per la pressione Di Indidi Incredibile ragazzi Indidi è fenomenale Quasi Mi dispiace cambiarlo Un pochettino Attenzione Questa gran palla Di Werner Per Avers Avers Col destro Dove c'è Dos Santos 1-0 West Ham Signori Non so Nuovamente Cosa ho detto Perché col destro Dove c'è Dos Santos Volevo dire Col destro Dove Dos Santos Non può arrivare Ma comunque Il Caimano Avers Sblocca il match Proprio lui Attenzione A questo cross Dove c'è Hector Ederson Si ritrova un po' La palla addosso Ma è attento Fa un'ottima parata Onana probabilmente Si sarebbe spostato No vabbè Non parliamo degli assenti Gran colpo di test Eh eh Ci ha dovuto Metter le mani Il buon Ederson Che col numero 19 Comunque non si può vedere Devo ricordarmi Di cambiargli il numero Attenzione A questo cross Di nuovo Dove c'è Vitolo Ecco Questo 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 no Questo no Questo non mi piace Vederlo onestamente Vabbè Vitolo è un animale Per carità Ci poteva far poco Riccardo Pereira Però insomma Il tuffo di Ederson C'è un problema Di base Per i portieri Ragazzi Ederson È rimasto Girato di spalle Cioè ci rendiamo conto È rimasto girato Di spalle Ederson Ok C'è C'è proprio Un problema Di fondo E finisce qui La partita Ragazzi Si va i calci Di rigore Assolutamente Neves può tirare Le punizioni Ma i rigori Li tira male Pazzesco Comunque Soler Davanti a Dos Santos Vediamo un po' Ragazzi E chiaramente Dos Santos Spara Vai Ederson Con il numero 19 Contro Antoine Griezmann Ed L'avevo quasi parata Timone Werner Questa va fuori Uh Gran Calcio di rigore Invece L'avevo quasi parata Quella di prima Dai Ederson Riproviamoci Andiamo di qua Questa volta Questa invece La pariamo Ragazzi Questa la pariamo Lukman Vai a Demola Lukman Troppo centrale Dos Santos Rimane fermo Gelson Martins Contro Ederson Di nuovo di qua Uh Centrale Peccato Ben calciato Da Gelson Martins Ricaldo Pereira Dos Santos Viene spiazzato Le Mar Contro Ederson Dai raga Possiamo ancora farcela Le Mar Contro Ederson No Niente da fare Spiazzato Ederson Neves Contro Dos Santos Che ha un paro a rigori Ragazzi Perdiamo purtroppo Abbiamo sconfitti In semifinale Dall'Atletico Madrid Che Che niente Ha perso la Champions League La finale di Champions League Contro di noi Quindi amen Niente Vabbè ragazzi Abbiamo perso i rigori Effettivamente Non abbiamo rigoristi Comunque Come all'esperimento Avers trequartista Sicuramente positivo Raga È un ottimo È un ottimo calciatore Ci arriva un'offerta Per il trasferimento Per Matip Ragazzi Nel frattempo Quasi 40 milioni Ne chiederemo 39 Penso proprio Sia la cifra giusta Visto che è il Paris Saint Germain E poi magari Visto che è già da un po' Che sto registrando Nel prossimo episodio Ci tufferemo Visto che in questo Abbiamo già acquistato Il portiere Ci tufferemo appunto Sulla difesa 39 tondi tondi Vediamo un po' Cosa ci dicono Clausola rivendita Per uno di Chi lo sa Se poi lo rivenderete Rimuoviamo la clausola E vi vengo Un po' incontro 38 e 5 Dai Si sono alzati Si stanno alzando Quindi penso sia giusto Ragazzi Andargli incontro Ma non più di tanto Perché Matip Può aver mercato E Il prezzo Il prezzo è Alto forse Per Matip Nel frattempo Un'offerta per il trasferimento Di Lukman Però Lukman Resta con noi Ragazzi Ce la fa il Tottenham Tra l'altro Un'offerta molto interessante Ma che Assolutamente Rifiuto Nel frattempo Offerta per il trasferimento Per Balbuena Ragazzi Il Bayer Leverkusen Visto che già Col Manchester City Dell'Atletico Madrid Abbiamo perso Quest'occasione Cerchiamo Almeno Balbuena Di venderlo Quest'oggi 23 milioni e 500 Il massimo Che possiamo chiedere Nuovamente Ci teniamo un pochettino Bassi Vediamo un po' Cosa ci dicono L'offerta comunque È di 21 milioni È già molto alta Quindi magari Chiediamone 24 Ok Perfetto ragazzi Quasi Siamo stati fortunati A perdere l'occasione Con l'Atletico Madrid E Il Manchester City Perché comunque 24 milioni Sono tanti i soldi Qui potremmo chiedere Quasi 50 milioni Per Lokman Può crescere ancora E vado assolutamente A rifiutare Mi piace come giocatore Ok signori Arriva un'altra offerta Per Matip Il Barcellona 25 milioni Sanziamo di 10 milioni 35 Raga La rischio tanto La rischio tanto E neanche così tanto Neanche così tanto Raga Dai Mi alzo 33 E 8 Vediamo un po' Che ci dicono Perfetto signori Perfetto Venduto anche Matip Venduto anche Matip Al Barcellona E quindi Mi sa che L'Engle Potrebbe essere Sicuramente Un colpo interessante Per Il prossimo episodio Vediamo se riusciamo a chiudere Questi due colpi Di una cosa Siamo sicuri Signori Matip È stato Venduto Al Barcellona Ci entrano 30 milioni Signori 30 milioni E siamo a 227 milioni Di budget Ancora Abbiamo acquistato Già Ederson Abbiamo L'ufficialità Anche Di questa Cessione Venduto Balbuena Per 24 milioni Leverkusen Ci entrano 21 milioni Per il mercato Bene signori Io mi fermerei qui Abbiamo fatto Due sessioni Importanti A questo punto Chiaramente Nel prossimo episodio Doviamo andarci A rinforzare Con i difensori centrali Dovremmo prendere Un top In quel ruolo Skriniar È il principale Indiziato E poi Sicuramente Un altro Acquisto Che possa andare Appunto Essere il primo Sostituto Insieme A Diop L'Engle Visto che abbiamo venduto Matip Al Barcellona Può essere Sicuramente Il primo Indiziato E poi Penseremo Magari A un centrocampista E un esterno Destro Direi che Fare le cose così Con calma Ci sta Nel prossimo episodio Oltre al calcio mercato Però signori Si inizia Innanzitutto La Premier League Ma soprattutto Ma soprattutto Il 2 agosto Abbiamo la Community Shield Contro il Tottenham Quindi bisognerà Essere già Non dico al completo Ma quasi E poi Chi lo sa Se riusciranno a fare Anche la Supercoppa Europea Bene signori Io direi che Questo episodio Può finire qui Sto registrando Veramente da tanto Ci tenevo a dirvi Un paio di cose Ma soprattutto Direi che comunque Un po' di movimenti Li abbiamo Già fatti Vi ho fatto vedere Chi sono i miei Principali indiziati Per la difesa Abbiamo già acquistato Il portiere Direi che è un buon Portiere Bernardeschi Nel frattempo Va all'Arsenal Per 82 milioni Ed è poi per 70 E la casetta Per 67 milioni Va al Bayern Monaco Interessante Quindi Signori Sono contento Di ciò che abbiamo fatto Mi raccomando Mettete le sveglie Perché martedì Alle 13.30 E giovedì Alle 13.30 Usciranno I prossimi episodi Della carriera Dall'allenatore Mi raccomando Ragazzi Ci conto Noi ci vediamo Ad un prossimo video Lasciate un commento Consiglio E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi